Giulio, siediti. Cassiano. Per favore non mi morderai. 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 Sì, io voglio ancora il ginocchio, io voglio ancora il ginocchio, io voglio ancora il ginocchio. Sino, ma se mi bevi troppo? Dico, me ne ho dovuto andare a mettere, invece non da un'altra. E perché? Vuolevi tu? Mi ha detto mio fratello, come che ce n'è uno, che cos'è il sparo? Non si sa. Non si sa che... Sai gli ingredienti, non sai gli ingredienti, le cose. E cosa sono? La coca, la coca è l'erba. Con l'erba si fa? Giuseppe, ti trovo. E chi? E io ho detto di cascola. Ma no, ma no, mi fai mai? Yeah. Perché ci sono i miei investimenti. Sì, hai giocato? Vas, refrigerate. E non? In collaboratepiej. Questa è Nicola? Per me Quanti giorni stanno ancora? Il colino 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.